E' un'azione che si può già leggere dal volto di Dimitri Tomasson, è stata una gran bella gara, la mostra, partiti abbastanza cauti all'inizio, sapevi che la vettura era da conoscere nelle prime PS dopo la zampata vincente? Sì, sapevamo che la prova ieri di meduno era favorevole a Marco e sapevamo che lì sarebbe andato molto forte, cercare di seguirlo sarebbe stato stupido, l'hanno bisogno di far giù anche con la macchina per prenderla in mano e un po' alla volta siamo andati sempre meglio e molto contenti. Voi te la sei sentita questa vettura performante, prima volta mi sembra che il Super 2000 l'avevi provata, Super 1600 altrettanto con quei vinto qua, un'altra storia. Diciamo che è la prima volta col turno, ci siamo trovati da subito bene, una macchina che comunque ti dà confidenza e un po' un videogioco. Un po' un videogioco, ormai la tecnologia è anche questa, l'elettronica ha portato anche così una similitudine con il videogioco. Sì, parlavo con Enrico nell'ultimo trasferimento che a differenza dell'altra gara è questa, c'è anche il piacere della guida. A piancavallo abbiamo potuto fare gli asini, non ci siamo fatti mancare niente e quindi oltre a un bel risultato è stata anche una giornata di divertimento. a parte l'ultima prova con l'acqua, con le gomme d'asciutto, però è andata bene anche quella, dai. E poi quando si vince in casa ha tutto un altro sapore? Certo, fa sempre emozionare questa piazza qua, quindi tutto bene. Senti, quando hai visto che con le gomme d'asciutto era rischioso e quando qualcun altro poteva prendere degli azzardi, qual è stato il tuo pensiero? Il pensiero era che eravamo tutti nella stessa condizione, poi ho visto Iguolo e mi piaciuto come abbagnato, ho visto Vicario uguale e ho detto, forca puttana, adesso ce l'ha mangiato tutta sull'ultima. Perché se hanno avuto i convinti, abbiamo preso i nostri rischi e al fine mi ha vinto a dare tutta una prova, quindi va bene così. Enrico, allora, un finale che si viva, perché immagino il tempo di participazione sul finale C'è stato l'inizio, ma dai primi metri abbiamo subito capito che poteva ancora essere la nostra prova, ed è stata, ed è stata, siamo contentissimi, siamo usciti convinti di aver vinto, diciamola così. Ok, per voi, la posizione centrale come i due aspetti di questa carta di Piole di Andrea Villaniato, assolutamente protagonista con sabato.